buongiorno a tutti ho appena visto il gran premio moto gp di aragon gran bella gara devo dire sicuramente peccato che rossi partiva a 17esimo quindi era già fuori dai giochi sin da subito però la bandiera italiana è stata ben retta se mi passate il termine sia da dovizioso che da jannone ma veniamo a quello che è successo perché subito alla partenza colpo di scena la prima curva perché jorge lorenzo decolla dopo dirà quello che dirà ve lo dico a fine gara però praticamente alla curva la moto lo sbalza vedi che proprio vola casca a terra sbatte un po tutto perché sbatte di faccia praticamente fortunatamente al casco eccetera però va proprio giù secco rimbalza eccetera gara finita naturalmente per sua fortuna pare si sia lussato soltanto il il ditone del piede destro quindi nulla di grave fortunatamente però gara già buttata via all'inizio quindi subito la coppiata vincente dovizioso marquez primo e secondo seguiti e attaccati dalle due suzucchi di jannone rins quindi pedrosa e spargarò bautista craccio zarco petrucci al decimo posto e rossi già tredicesimo partiva diciassettesima già recuperato quattro posizioni a 22 giri abbondanti dalla fine termina anche la gara di alvaro bautista mentre rossi già salito in undicesima posizione e marquez è lì bello attaccato ad ovizioso in attesa con calma tanto mancano 22 giri può sorpassarlo quando vuole a 20 giri dalla fine a parte un po di schermagliucce tra le due suzucchi di rinsene a jannone che provano a sorpassarsi a vicenda e un buon pedrosa subito dietro non c'è nulla di importante da dire intanto rossi resta undicesimo ormai quello che poteva fare subito l'ha fatto adesso deve cercare la rimonta ma comincia a essere un po più difficile comunque la classifica appunto a 20 giri dalla fine vede sempre dovizioso primo marquez che gli sta attaccato come un falco terzo rins sempre lì molto vicino quarto iannone quinto pedrosa sesto e spargarò settimo craccio ottavo petrucci nono miller e decimo zarco a 19 giri dalla fine non faccio in tempo a stirare la classifica che cal craccio mentre si trovava in settima posizione scivola via una normalissima scivolata che purtroppo fa molto male al suo orgoglio ma non dà nessun danno fisico al pilota se non è un giramento di testi perché veramente ha perso un attimo la moto poi è andato in curva e è scivolato via era dall'altra parte perché era una curva così è scivolato via e gara buttata peccato perché era settimo stava andando anche bene a 15 giri nella fine come vi dicevo anche prima non c'è nulla di eclatante da raccontare classifica più o meno invariata dovizioso sempre primo con marquez sempre attaccato come un falco appunto rins appena dietro di annone appena dietro pedrosa quinto e spargarò sesto petrucci settimo miller ottavo rossi nono perché comunque recuperato dall'undicesima è arrivato al nono posto e decimo zarco a dieci giri dalla fine la coppia dovizioso marquez comincia a distanziare le due suzuki facendo scendere i tempi al giro intorno all'1 45 5 ma la lotta tra loro due resta proprio sono lì lì che stanno per iniziare la battaglia diciamo che per ora si sono studiati a vicenda e infatti subito dopo marquez passa dovizioso e si prende il primo posto ma dovizioso non molla e adesso è guerra totale naturalmente in senso spositivo tra i due contendenti classifica quindi a nove giri dalla fine vede sempre ma vede stavolta marquez al primo posto davanti a dovizioso dopo che dovizioso per più di metà gara è stato al primo posto adesso è marquez a stargli davanti gli annone intanto ha superato rins e si è preso il terzo posto ma rins è lì attaccato a sua volta pedrosa zitto zitto cacchio cacchio lì al quinto posto in una posizione ibrida lontano dai quarti e con la distanza di sicurezza dai spargarò quindi lui è felice contento del suo quinto posto sesto e spargarò settimo petruccio ottavo miller nonno rossi e decimo vignales che come sempre quando sta per finire la gara lui comincia a carburare e a recuperare qualche posizione anche se ormai un po tardino otto giri dalla fine dove ripassa al secondo attacco la onda di marquez e la sfida tra i due però ha riportato molto vicine le due onda sia di annone che quella di rins proprio perché inseguendosi a vicenda controllandosi a vicenda i tempi si sono un attimino abbassati e le due suzuki ne hanno approfittato per riportarsi sotto e infatti subito dopo è successo la cosa più bella della perché praticamente dovizioso attaccato marquez lo ha costretto ad allargarsi poi nella curva successiva anche gli annone attaccato all'interno marquez quindi marquez si è trovato la moto di di annone a destra la la desmo 16 di dovizioso a sinistra cosa ha fatto per paura ha rallentato i due sono passati davanti a un certo punto la suzuki di annone era riuscita a mettere un attimino davanti il muso ad ovizioso quindi per una poi sulla curva dove l'ha ripreso e subito dopo sul rettilineo marquez di cattiveria ha sorpassato nuovamente all'esterno gli annone si è ripreso la seconda posizione però è stato bellissimo perché a questo punto il povero tra virgolette perché sapete la mia poca simpatia che ho per marquez si è trovato praticamente a sandwich a fare il prosciuttino in mezzo alle due alla suzuki e alla desmo 16 di dovizioso fantastico guardate è stato un momento momento più bello clou della gara comunque praticamente a cinque giri o poco meno dalla fine la classifica rivede dovizioso davanti a marquez quindi annone rins pedrose spargarò petrucci miller nono rossi e decimo vignales all'inizio al termine del terzo ultimo giro marquez ripassa nuovamente dovizioso ma l'italiano non molla gli resta attaccato e prova a ripassarlo ma è per lui marquez riesce a tenersi il primo posto e comincia a prendere quel leggero margine che poi alla fine gli servirà per gestire gli ultimi due due giri di gara e andare a vincere il gran premio d'aragon quello praticamente di casa sua davanti a iannone davanti a dovizioso e a iannone secondi e terzi quarto rins quinto pedrosa sesto spargarò settimo petrucci ottavo rossi che a due giri dalla fine ha sorpassato miller nello stesso momento in cui marquez sorpassava dovizioso rossi sorpassava miller infatti hanno staccato subito per far vedere appunto il sorpasso di marquez a dovizioso quindi anche quel piccolo momento di gloria di rossi che gli fa vedere finalmente un sorpasso gli hanno tolto pure questa soddisfazione quindi una gara proprio da tra virgolette da dimenticare però se ricordiamo che rossi partiva a diciassettesimo un ottavo posto e comunque tanta roba la classifica piloti ahimè come dicevo dovrebbe essere chiusa perché adesso a questo punto marquez ha 72 punti di vantaggio su dovizioso 246 punti marquez 174 dovizioso al terzo posto c'è un rossi che cercherà di mantenere questo terzo posto fino alla fine dagli attacchi sia di lorenzo che a 130 sia del suo compagno di squadra vignales che ha gli stessi punti di lorenzo appunto 130 quindi abbiamo la coppia craccio petruzci a 119 punti zarco a 112 giannone a 108 e rins a 92 quindi temo che ormai il mondiale ci sia poco da fare a meno che marquez non fa un disastro nelle prossime tre gare e cade sempre perché altrimenti credo che 72 punti a marquez che se non arriva primo arriva secondo se non arriva seconda arriva terzo non gliele ricoperi più quindi direi che il mondiale ormai va al signor marquez però gli altri potrebbero togliersi qualche piccola soddisfazione nelle prossime gare cercare di aumentare il loro score personale vincendone qualcuna visto che magari il pesce cane marquez potrebbe accontentarsi di un secondo un terzo posto tant'ora mai non rischia se ne sta schiscio eccetera eccetera veniamo alle dichiarazioni però di lorenzo incazzato perché a fine gara ha detto che praticamente il suo volo è stato determinato da marquez che gli ha fatto un blocco davanti nel cerco nel sorpasso che ha fatto visto che comunque aveva la moto davanti a a lui e praticamente in curva sulla curva quando erano messi così si è proprio visto lui che il lorenzo che ha frenato con la con le ruote leggermente spostate perché stava facendo la curva probabilmente ha frenato per non andare addosso a marquez che gli stava appunto davanti e la moto naturalmente ha avuto l'impennata l'ha sbalzato e quindi lui chiede le scuse al suo futuro compagno in in onda vedremo cosa succederà prossimamente se si arriveranno se gli dirà di non rompere le scatole che lui non ha fatto niente stava facendo la sua traiettoria staremo a vedere calcolando quello che di solito fa marquez non lo so se gli andrà a chiedere scuso che cosa gli dirà ciccio io stavo facendo la mia gara ero davanti a te sei tu che devi stare attento non io come d'altronde di solito se uno ti viene addosso dietro è sempre colpa sua non è colpa tua anche se tu freni apposta perché lui ti venga addosso però staremo a vedere che cosa succederà ripeto ci sono queste dichiarazioni ne sapremo di più sicuramente domani o nei prossimi giorni io intanto ve le comunico a voi la sentenza a voi rivedere le immagini io francamente non ho visto tocchi né niente ripeto marquez era davanti a lorenzo lorenzo era in curva e quindi se sei già con la moto messa così per fare la curva se freni è normale che la moto non è molto felice che gli tocchi in freno in curva quindi probabilmente la colpa è però sai lui dietro non guarda come già successo in quell'altro incidente in cui hanno fatto il re belote sono caduti tutti e tre quindi ripeto io vi faccio le dichiarazioni vi rimetto le dichiarazioni vi dico le dichiarazioni che ha fatto lorenzo poi staremo a vedere bene abbiamo chiuso il racconto del gran piano d'aragon temo che ormai il mondiale sia chiuso anche perché finisce a metà novembre ormai di gare ne mancano veramente poche questa era la quattordicesima quindicesima quattordicesima se non sbaglio quindi ormai ne mancheranno 4 5 quindi 125 100 punti se lui ne ha 70 246 meno 2 74 fa 72 ci sono 100 punti o 125 punti in paglio come cavolo fai a recuperarli comunque staremo a vedere io vi saluto vi ringrazio ci vediamo al prossimo video che sarà sulla formula 1 settimana prossima e naturalmente a breve dopo questo vedrete anche quello che riguarda il campionato di serie a ciao